Di nuovo buonasera, titolo della presentazione, selettività alimentare e impatto del cervo sardo corso sui cedui mediterranei, implicazioni per la gestione forestale sostenibile. Quindi facciamo un piccolo focus di uno studio dell'agenzia sull'impatto del cervo sardo in una zona gestita, usata, in un bosco usato, ceduo mediterraneo. Vediamo selettività alimentare, cosa intendiamo? Questo è un esempio, non so quanto sia visibile, comunque è un esempio di selettività alimentare, cioè intendo brucatura selettiva di piante legnose. Questo perché il nostro focus era il ceduo, quindi zone tagliate, piante legnose. E qui c'è un esempio di selettività, si vede il corbezzolo tagliato un anno fa, che sta ricrescendo apparentemente indisturbato e si vede questo tappetino qua, più o meno all'altezza del suolo, all'altezza del taglio quindi, che è una filirea con la foglia piccolina, ha reagito alla brucatura con tanti piccoli germogli, ma non si è alzata più di tanto. Quindi da questo già possiamo ipotizzare che la probabilità di brucatura del corbezzolo è nettamente inferiore rispetto a quella della filirea. Perché questo aspetto ci interessa? Innanzitutto il progetto LIFE che è stato presentato oggi si è occupato fondamentalmente di diffusione del cervo in varie aree dove si è restinto, quindi ripristino delle popolazioni vitali, quindi prima o poi una diffusione degli impatti. E quindi gli impatti prevedono quindi delle scelte gestionali, come gestirli questi impatti. Più in generale l'argomento è questo, il cervo se la foscostica è una specie protetta, prioritaria, quindi la sua popolazione, ci auguriamo tutti, che aumenteranno. I boschi che gestiamo sono sia abitati tutelati, ma sono anche risorse economiche che sono usate e devono essere mantenute nel loro valore, ma anche sia economico che ecologico. Questo suggerisce obiettivi di multipli di gestione forestale. L'impatto differenziale sulle piante vuol dire che avrà un impatto diverso. Ci saranno piante che soffriranno, punto interrogativo, piante invece che soffriranno di meno. Quindi ci siamo chiesti cosa succede se tagli un bosco e ci sono i cervi, questa è una domanda generica, banale, per dare una risposta in termini quantitativi, quindi utile, sono necessari dei monitoraggi. Monitoraggi che peraltro in molti casi sono obbligatori, perché qui l'autorità che ha autorizzato il taglio, il corpo forestale di vigilanza ambientale, ha detto ok tagliate, però voi mi controllate ogni anno l'effetto della brucatura del cervo, che sappiamo che c'è, sulla ripresa, sulla ricrescita delle piante tagliate. Quindi monitoraggio obbligatorio, dove ho cercato di usare questi dati di monitoraggio obbligatorio, presi peraltro in maniera abbastanza speditiva, cioè in poco tempo, per imparare qualcosa, per capire qualcosa. Piccolo focus, vabbè, sui livelli di tutela. Qui stiamo parlando di foreste di leccio, il nostro focus sarà quello perché è l'abito più diffuso, dal punto di vista della gestione forestale in Sardegna, cioè il leccio viene tagliato, viene usato per legna da ardere. Ed è protetto perché è inserito nell'allegato 1, e quindi è protetto nella rete Natura 2000. Il cervo, l'afscorsicano invece, è inserito nell'allegato 2 e 4, sto parlando, scusate, della direttiva Habitat, e quindi è protetto sia attraverso la designazione di zone speciali di conservazione, i SIC, che poi diventano ZSC, ma è anche protetto all'interno di tutto il territorio dell'Unione Europea, quindi all'interno di tutto il territorio sardo-corso, non solo nelle aree, diciamo, della rete Natura 2000. Sempre la direttiva ci dice che siamo obbligati a assicurare il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, animali e vegetali, in questo caso è animale. Ma le misure adottate tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, cioè l'uso del bosco è ragionevole, è legittimo, è obbligatorio per venire incontro a queste esigenze, sino che è compatibile, chiaramente, con la conservazione, con gli obiettivi di conservazione. L'articolo 11 ci dice anche che il monitoraggio è obbligatorio, abbiamo l'obbligo di sorvegliare le risorse gestite. Quindi questi sono obblighi gestionali, quindi sono obiettivi multipli di uno che si occupa di gestione. Quindi, tornando al monitoraggio obbligatorio, abbiamo cercato di capire cosa succede. Modalità e processi. I processi sono il comportamento alimentare dell'animale, prenderà delle decisioni, avrà delle preferenze, quindi c'è un punto di vista dell'animale. Ma c'è anche la capacità di resistenza e appetibilità delle piante, che avranno diverse caratteristiche, diverse strategie evolutive. Quindi c'è un focus sulla pianta. Le piante che abbiamo analizzato sono leccio, filirea, corbezzolo, erica, arborea e cisto, che sono piante che ricrescono dopo il taglio, o ricrescono perché i semi sono esposti al sole, sto parlando del cisto. Tutti gli altri invece sono piante che riprendono, respouters, così si chiamano. Un'altra cosa, un altro punto di vista, è la composizione della comunità vegetale. Il contesto dove la brucatura si sviluppa. Quello incide, e lo vedremo, perché abbiamo dati su quello. Quindi bisogna mettere a fuoco queste varie prospettive. Quindi capire la brucatura col monitoraggio obbligatorio. Abbiamo seguito praticamente cose successe in tre aree ceduate. Abbiamo preso dei dati molto semplici, abbiamo cercato di ragionarci sopra, e racconto oggi quello che poi siamo riusciti a pubblicare su Istrix. Quindi tutti i grafici saranno presi da questo lavoro. E questo è il sistema di studio. Stiamo parlando di questo. Stiamo parlando di una leccetta, di un ceduo con matricine, molte matricine, che sono gli alberi rimasti in piedi. Sono stati tagliati gli altri alla base, arbusti e alberi, e stanno ricrescendo. Questo, se non sbaglio, è un anno dopo il taglio. Quindi vediamo, il verde è brillante e sono corbezzoli. Il verde invece è un po' pacco, un po' grigio, sono leggi che stanno riprendendo. Questo è un anno dopo. Questo indica chiaramente che c'è una quantità incredibile di germogli vigorosi che riprendono dalla base e che sono chiaramente interessanti, almeno dal punto di vista quantitativo per il cervo, che si aggregherà in queste tagliate. Che ipotesi abbiamo valutato? Abbiamo cercato di descrivere un pochino il processo. Cosa succede? È molto banale. L'eccedulazione espone piante legnose che ricrescono dalla base alla brucatura. Perché un albero non ha nessun problema di brucatura, perché già un albero lo tagli di nuovo. La brucatura è un problema per lui, deve sopravvivere. Deve crescere nonostante la brucatura e superare un'altezza limite. I germogli di piante diverse presumibilmente avranno diversi livelli di resistenza. Saranno brucati in maniera differenziale. Questa è l'ipotesi che abbiamo fatto. L'erbivolo si aggrega per brucare selettivamente le piante, anche in relazione all'abbondanza di risorse. Cioè ci immaginiamo che un erbivolo va in zona dove ci sono più risorse appetibili e evita zona dove ci sono risorse meno appetibili, perché non spreca a tempo in zone dove c'è un'alimentazione che non gli piace o che non gli serve. Quindi l'impatto sulle specie vegetali varia con la loro identità, la specie, e con il contesto. Con il tempo, altre ipotesi, la comunità vegetale riprenderà altezza, volume, e a poco a poco uscirà dall'erbivoria. Cioè l'erbivolo probabilmente andrà in altri posti, in altre tagliate, magari, oppure in altre radure, oppure si adatterà all'ambiente che trova. Quindi cosa abbiamo fatto in pratica? Ho detto già tre aree ceduate. Quindi tagliate con quel metodo che abbiamo visto prima, quella foto lo rappresentava, nel 2011, 2012, 2013, abbiamo studiato quattro anni post taglio, quindi ogni anno andavamo e misuravamo la brucatura in ogni tagliata, e facciamo una decina di transetti all'anno. Andavamo a marzo, andavamo a marzo perché l'idea era di misurare la brucatura che si è accumulata nell'anno. Cioè con i germogli primaverili, con i germogli autunnali, eventuali antigermogli, dipende da quanto cresceva. L'inverno c'è una stasi, andavamo alla fine dell'inverno, prima dell'inizio del germoglio primaverile. E quindi con quattro giornate per due osservatori, in tutto lo studio, abbiamo raccolto dei dati, piuttosto speditivi, sulla brucatura. E qui c'è una tabella che indica un pochino i numeri. Transetti erano, vabbè, transetti casuali di 25 per due metri, quindi una striscia. Tutte le piante che ricadevano in quella striscia venivano osservate attentamente da due operatori, che avevamo io e Andrea. Stimavamo visivamente la percentuale dei germogli brucati, cioè lo guardavamo, e sparavamo i numeri. Dicevamo che è 0% brucato, oppure 10-20%, oppure, eh, qui siamo sul 90%, oppure questa è tutta brucata, 100%. Davamo questi numeri, quindi stimavano una proporzione di germogli brucati per pianta. Questi sono i dati, sono 1.279 le piante osservate, di cui 502 corbezzoli, 327 leci, poi a scendere 177 erica, 109 cistus, 95 filirea. Qui ci sono i dati delle piante, piante, brucate. Vediamo che sono 22 su 502 di corbezzolo, e quindi già vediamo che è una proporzione bassa, 265 su 327 di leccio, 85 su 95 di filirea. Questo già ci dice che, nonostante la risorsa più abbondante sia quella del corbezzolo, per numero, per abbondanza relativa, di conseguenza, non seleziona comunque la risorsa più abbondante, si va a scegliere le risorse che gli piacciono di più, questo è forse ovvio, però l'abbiamo quantificato. Questo indica la proporzione di germogli, la media della proporzione di germogli brucati. Bassissima nel corbezzolo, media nel leccio, questa è 0.62, questa è 0.41, magari non si vedono lì. Comunque la più alta è quella della filirea, che già da quella foto si vedeva che era abbastanza appetibile. Ci interessava chiaramente dal punto di vista dell'impatto la velocità con cui le specie ricrescevano dopo il taglio, la velocità con cui superavano un'altezza critica, oltre il metro e mezzo, diciamo che sono quasi in salvo dal cervo, perché il cervo è pigro e non si arrampica, cerca quello che trova un'altezza ragionevole. E questi dati danno la distribuzione delle altezze, sono dei box plot. Vediamo, questo è primo anno, secondo anno, terzo anno, quarto anno, dopo il taglio. Sta passando il tempo progressivamente, andavamo, misuravamo, questo è Arbutus unedo, corbezzolo, e sta crescendo bene. Questi sono Cistus, Cistus ci sono due specie, Monsperienzi e Salvifolius, questa è Erika arborea, questa è Filirea, vediamo, non sta crescendo granché, tra l'altro secondo anno sta l'anno alla grande, terzo e quarto invece si è proprio quasi bloccata. E questo è il leccio, abbastanza lineare, che al quarto anno ha raggiunto, diciamo, una distribuzione di altezze abbastanza rassicurante. E questo ci dà un pattern di crescita diversa. Il corbezzo va molto veloce, il leccio va un po' meno veloce, ma lo raggiunge e poi lo supererà, perché è una specie dominante. Probabilmente, vediamo se torno indietro, no, sì. Probabilmente queste diverse velocità di accrescimento potrebbero anche essere legate a diversi impatti di brucatura, non solo a questo, chiaramente, ma probabilmente sono legate. Quindi siamo andati a misurare la probabilità di brucatura delle piante. Pianta brucata sì, pianta brucata no. Questo è un dato aggregato, approssimativo, che perde molte informazioni che ci sono nella percentuale di brucatura dei germoni nella pianta, perché se un germoglio laterale di un leccio è brucata, quella è pianta brucata sì. Però, in genere, quando c'è un germoglio brucato, ce ne sono anche altri. Comunque, questi sono i risultati. Abbiamo delle piante che sono il corbezzolo, il cistus, le due specie, e l'erica, che hanno una bassissima probabilità di brucatura delle piante, e due piante che sono il leccio e la filirea, scusate, la filirea e il leccio, che sono brucate in maniera simile. L'analisi statistica ha mostrato lo stesso parametro. Se, però, andiamo a stimarci la probabilità di brucatura dei germogli, vediamo lo stesso pattern per le specie, che a questo punto iniziamo a chiamare non appetibili, e infatti, invece, che si differenzia per la filirea, che è quella più brucata, C, parametro C, e per il leccio, che è brucato a livelli intermedi. Questo salato è coerente con quello che si sa dalla letteratura, che è B, quindi è statisticamente significati dalla differenza. Quindi, la probabilità di brucatura dei germogli dipende dalla specie, dipende dall'identità. Prima conclusione. E ci sono un gruppo di specie che sono non appetibili, che quindi il cervo ignora, e un gruppo di specie invece appetibili. Questa invece è la proporzione di germogli brucati, che si riduce col tempo, è un altro pattern, un'altra modalità. È abbastanza chiara, qui vediamo solo filirea, sono i cerchi pieni, e il leccio sono i cerchi vuoti. Quindi c'è un pattern negativo per entrambi, molto più chiaro e più netto per il leccio. Quindi al quarto anno, uno, due, tre, quattro anni dopo la situazione, si scende parecchio, da una probabilità relativamente alta, quasi certamente sarebbero stati brucati, a una, vabbè, qui è una proporzione, ma indica una probabilità, che stiamo andando sotto 0,40, quasi a 0,20. Quindi si sta alleggerendo parecchio la brucatura. Quindi ci sarà sicura sugli impatti. Chiaramente il pattern che vediamo sul tempo è probabilmente legato alla crescita della pianta. Più la pianta è alta, più germogli ci sono, più diluzione c'è, ma anche più germogli a una certa altezza, oltre la possibilità di brucatura del cervo, ci sono e quindi inevitabilmente si riduce. Tanto è vero che c'è una certa relazione tra altezza della pianta e proporzione di germogli brucati. Il leccio ha una distribuzione dell'altezza molto maggiore, e c'è una linea continua, chiara, e invece i puntini neri, che sono quelli della filirea, sono abbastanza raccolti, e c'è una relazione decisamente debole. È tuttavia significativa. Allora, quindi abbiamo individuato l'effetto di specie, l'effetto del tempo e dell'altezza. Adesso ci manca solo lo spazio. Lo spazio l'abbiamo, un effetto dello spazio l'abbiamo ipotizzato come effetto della densità di specie appetibili o non appetibili. Se sono non appetibili, l'ipotesi banale è che la brucatura dovrebbe diminuire, perché il cervo dovrebbe evitare zone dove ci sono molte risorse che non gradisce. Se in mezzo ci sono delle piante appetibili, magari si salvano, perché ignora il patch, l'area. Quindi l'abbiamo messo in relazione a DIU. DIU sarebbe la densità delle unpalatable, quindi di quelle che non sono appetibili, che sono corbezzolo, cisti ed erica. Vabbè, questa è una tabella improbabile da leggere, comunque fondamentalmente rappresenta un'analisi statistica dove per la filirea vediamo che i fattori che sono il modello migliore, quindi quello che dobbiamo prendere in considerazione, sono la densità di specie non appetibili, di nuovo l'altezza, e gli anni dal taglio, che abbiamo visto prima con delle regressioni semplici. C'è un secondo modello che con una certa incertezza è abbastanza vicino, dove c'è anche la densità di specie appetibili, che tra l'altro sono correlate con le non appetibili, quindi crea qualche problema di interpretazione, ma l'abbiamo considerato. Per la filirea prendiamo quindi DU, perché è quello più forte, dobbiamo prendere il più parsimonioso. Nell'eccio invece emerge anche l'effetto della densità di specie appetibili. non mi soffermo su questa, perché è complessa. Comunque l'evidenza sull'eccio è abbastanza chiara, è abbastanza forte. E la cosa più interessante, al di là dell'evidenza statistica, è la dimensione dell'effetto, che abbiamo rifatto qui, utilizzando i parametri stimati, che forse è importante sottolineare, che sono negativi, cioè come aumenta la densità di piante, palatabili e non palatabili, la probabilità di brucatura diminuisce. Quello è il parametro stimato. E questa è la simulazione col parametro stimato. E la dimensione dell'effetto biologico, che è quello che interessa il manager, è importante, perché lì scende da 1, e quella è la PL, no? Filirea, la tifolia. La filirea va da 1, praticamente a bassa densità di specie non appetibili, che è questa simulazione per DU. 1, certamente verrà brucata. Probabilità di brucatura di germogli è questa. Come aumenta la densità, di specie non appetibili, si riduce drasticamente. Questo è un effetto importante, secondo me. Va quasi a 0,5. Non a 0,5, ma quasi. Nelle cioè più blanda, questa è la probabilità di brucatura, scende di 0,20. Comunque, secondo me, è un effetto biologico importante. Quindi può essere preso in considerazione per implicazioni gestionali, forse. In sintesi, voglio evidenziare che siamo in un contesto, in un contesto di risorse abbondanti, con una densità di cervo probabilmente bassa. In questo contesto, il cervo sardocosto siamo stato selettivo e ha evitato corbezzolari che i cisti. Alte densità di specie non appetibili hanno ridotto significativamente la brucatura sul leccio e filirea. Probabilmente perché gli animali aggregano meno in aree con queste alte densità. L'effetto della densità di specie appetibili, invece, è controverso. Non mi sono soffermato lì sui parametri, perché sono tabelle un po' improbabili. Però, nel caso della filirea, l'effetto della densità di specie appetibili, che poi erano leccio e filirea, era positivo, cioè aumentava la brucatura della filirea. E si può interpretare così. Il cervo va in aree dove c'è molto leccio e filirea e tra questi sceglie la filirea prima di tutto, perché è più buona. Viceversa, quando invece stiamo parlando... Cinque minuti? Ok, ho finito praticamente. Quando invece stiamo parlando di leccio, l'effetto della densità delle specie appetibili, cioè leccio stesso, e filirea poca, però abbiamo visto che ce n'era, riduce la probabilità di brucatura. Qui possiamo immaginare che le risorse sono abbondanti, più il leccio c'è, più si diluisce e l'effetto si riduce. Tuttavia, stiamo interpretando delle correlazioni su osservazioni piuttosto speditive, quindi ci vuole estremamente cautela, non ce le siamo inventate noi queste teorie, chiaramente si trova in letteratura a molti casi che dimostrano questo, e tuttavia sono necessari chiaramente gli studi comportamentali mirati per capire cosa effettivamente fa il cervo quando incontra un corbezzolo, una filirea o un leccio in quelle condizioni e in altre. Soprattutto è interessante capire la variazione. La cosa però importante per le implicazioni forestali, per la gestione intendo, è che l'effetto del cervo sulle piante dipende dal contesto, dove questo si sviluppa. Questo implica un'antenevole difficoltà di previsione, perché io non posso prendere dei numeri magici o delle esperienze fatte lì per poi estrapolarle in un altro contesto e direi, tranquilli, non c'è problema a queste densità. O viceversa, panico, perché a queste densità ci sarà un impatto. Devo in realtà controllare, sito per sito, cosa succede. Questo vuol dire contest dependence. Se capisci però perché cambia in relazione al contesto, cioè se capisci i fattori che determinano queste variazioni, se capisci un pochino il processo che sta dietro alle modalità che osservi, magari riesci a azzeccare la scelta. Una cosa che voglio sottolineare è che l'impatto, quindi, non dipende solo dalla densità degli erbivori. Qui non è l'unico fattore da controllare per gestire, diciamo, l'impatto sulle foreste, ma anche la stessa gestione della comunità vegetale. E qui scrivo, la gestione forestale può cercare di incrementare la resistenza di associazione, perché quando succedono quelle cose e l'effetto di DU si chiama resistenza associazionale. Una teoria dimostrata in vari casi. Quindi possiamo cercare di incrementare la resistenza dell'associazione, valorizzando e mantenendo nelle tagliate le specie poco appetibili, che mostrano anche buoni accrescimenti iniziali, come per esempio il corbezzolo, che peraltro dà ottima legna da ardere. E in genere i lecci si tagliano per legna da ardere. Per questo valutare l'efficacia di turni intermedi, né brevi né lunghi, per favorire la coesistenza di specie pioniere resistenti, che sono gli arbusti che abbiamo visto, e alberi dominanti sensibili a brucatura. Fariamo la coesistenza e cerchiamo di lavorare sulla facilitazione, sulle sinergie, sull'aumento della resistenza, dell'associazione al disturbo brucatura. queste conclusioni le ho già fatte, varia nello spazio e nel tempo, difficoltà di previsione, e quindi è necessario prendere decisioni su gestione forestale sostenibile, considerando la variabilità di processo, oltre alle limitate conoscenze sul funzionamento dell'ecosistema. cioè, cioè in pratica noi non sappiamo granché su cosa succede, su come reagisce una pianta, sull'effetto della densità, in più questo può variare nel contesto, nel che varia a sua volta nello spazio e nel tempo, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire fare monitoraggio, e adottare un adaptive management, cioè noi prendiamo delle decisioni nell'incertezza, facciamo anche una previsione di risultato, controlliamo questa previsione di risultato, e vediamo se ci siamo sbagliati, se ci siamo non zaccato, azzeccato pure che cosa è andato storto o meno, lo controlliamo col monitoraggio e correggiamo la gestione in corsa. E questo è un sistema di approccio alla conoscenza del learning by doing, cioè io faccio anche se mi rendo conto che le mie decisioni sono prese nell'incertezza. Non so perché, però ho voluto chiudere questa presentazione con questa copertina di un libro dell'86, se non sbaglio, sulla gestione, sull'adaptive management delle risorse rinnovabili e dove pescano? Pescano dalla gestione dei boschi e pescano dalle fisheries, la gestione dei pesci che si prelevano tutti e due. Come gestire in maniera adattativa? Probabilmente ci sarebbe anche la gestione della fauna selvatica qui in mezzo. E questo è interessante ed è anche un po' stimolante, nel senso che l'apprendimento adattativo attraverso esperimenti gestionali, cioè io cedo in un'area dove ci sono erbivori come il cervo, anche se so benissimo che si mangeranno le piante, però secondo me non se le mangeranno troppo, faccio un esperimento perché ipotizzo un risultato che può andar bene, quindi faccio esperimenti gestionali, l'apprendimento può procedere molto più velocemente che attraverso la gestione conservativa, cioè non faccio niente in attesa delle conoscenze che mi danno il numero magico, tu puoi intervenire se sai tutto questo, perché non lo saprò mai, perché il contesto cambia nello spazio e nel tempo, anche in relazione al tema change, se vogliamo, è la ricerca di base, poi c'è una prosecuzione della frase di Walters che è molto interessante che ho messo, che parla di conflitto tra ricerca di base che dice aspetti, aspetti, ci servono fondi, dobbiamo studiare, bene, però c'è il manager che dice sì, però io devo risolvere i problemi di uso del suolo, cioè di esigenze sociali, voglio dire economiche, io voglio tagliare il bosco, lo voglio tagliare lì, ma lì ci sono gli erbivori, tagliamo e vediamo cosa succede e questo secondo me è una cosa, un approccio che potrebbe se preso seriamente risolvere una serie anche forse, forse, di conflitti o di freni che si hanno quando bisogna prendere determinate decisioni e ho chiuso, grazie per l'attenzione. Grazie.